Oggi sono Alcus Crone, signore e signori benvenuti nella terza puntata di questa bellissima serie super farmosa Oggi un vecchio amico, il setaccio, ma non è brutto come pensate, anzi è un'ottima notizia, da paura Prima però signori facciamo un bel recapone di tutto quello che abbiamo fatto durante le live Perché questo è un pack bello farmoso, bello grindoso, quindi tutto quello che abbiamo fatto nell'ultima puntata E che abbiamo creato semplicemente per rasciare l'albero, l'albero Quest'oggi, no, durante le live, prima di questa puntata, noi le abbiamo rese singularity Quindi abbiamo creato la sabbia e abbiamo fatto la singularity della sabbia Abbiamo creato il nanotube, abbiamo fatto la singularity dei nanotube Abbiamo fatto la redstone che si faceva con questa e non mi ricordo con qualche altra cosa Singularity della redstone Abbiamo ottenuto il livello 4 e il livello 5 dei materiali E quindi abbiamo la singularity Oppela, oppela, questa già ce l'avevo in puntata Ho preso due di sabbia, così una la cuocchiamo e diventa sand E infine eravamo arrivati a un pezzo di dirt e un pezzo, un sapling, un albero insomma, insomma, è così Con, questi sono tutti stratagemmi che vi dico io Però oggettivamente ragazzi un po' noiosi da farvi vedere durante le puntate Quindi ho avviato facendoli in live Con due pezzi qualsiasi possiamo fare le shorts Quindi vi consiglio vivamente se volete farmare il legno come se non ci fosse un domani Ma soprattutto farmare la dirt perché è molto più complessa Che fate? Andate a prendere un saplinghino Dove sta? Io adesso, scusate ma, sono molto affamato Aspetta Saplinghino, eccolo qua Ok, lì Vi raccomando di usare il crocs appena possibile per raccoglierne di più Ah, poi non serve il bombillo, fate così Eccolo qua E se avete un saplinghino in mano, con questo potete prendere un sacco di leaves Le leaves, visto che avete l'albero Dentro ha un hawk barrel Adesso ha piovuto Maledetto hawk barrel Molto lentamente quindi metteteci un bel hopper Ogni 10 leaves vi fa un dirt 128 dirt La singularity E non dovete più preoccuparvi di questa robetta Ah, che meraviglia Che meraviglia Questo è qui, un altro consigliotto che mi sentivo da fare Prima della puntata È un albero Che si fa con 8 mele E un sapling E ottieni l'albero di mele Ti esce così E piano piano si cicciottano Oppure le bombillizzi E vanno Più veloce Da paura perché risolviamo molto i problemi del cibo Quindi abbiamo tutte le singularity del capitolo precedente E amici So che posso E' proprio un passaggio Un po' troppo avanti Però deve essere sincero È bello in compagnia Perché siamo in live Ma in puntata Vedermi fare 256 protein pass Per fare quello Per fare quell'altro Era un po' noiosetto Ora Sento dei rumori Quindi vuol dire Che è successo di nuovo È successo di nuovo È successo di nuovo Ma io non ho i seed Purtroppo Ho provato a uccidere Quello sopra Solo quello sopra Ma la gallina Non spona le uova Perfetto Ok Se c'essi dei seed Potrei fare Ma io direi di farli a questo punto Potrei Potrei accoppiarli Quindi andiamo Miei guys A prendere tutte le quest Ci ha dato una crafting table Grazie E entriamo nel vivo Della seconda fase Vedete possiamo anche fare I tool di tinker Ma Della tinker Ma sinceramente Non sono grande fan Bla 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 Abbiamo siamo arrivati qui Queste le abbiamo tutte quante Quindi Fase 2 Easy C'è Ci sono persone A cui sta sul cazzo L'ex nilo Io la adoro Io la adoro Mi piace tantissimo Grazie di questo ciborio Molto bene Davvero davvero bello Questo qui è Notsugodium Quindi a questo punto Ecco Vi sono fatto le armi Perché mi servivano Ma facciamoci l'armatura Prendiamo Quello buono No non si può fare Dobbiamo prendere Il wiki Eccolo Giusto Yes E poi dobbiamo Trasformarlo Wiki Facciamo così Pepette E Paravio Forse ne ho preso Troppo Facciamo così Dopodiché Come per la nederrite Dobbiamo metterci Questo E questo E si trasforma Ora non so Quanto sia buono Però sicuramente Meglio Che quello schifo Di prima Ok Bene 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 Allora Abbiamo sbloccato Lex Nilo C'è il crops Ci stanno le mele Ci suggerisce di fare L'aceto e tutto quanto Però la verità È che io vorrei arrivare Alle mesh Giustamente 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 Le foglie Sai che ti dico Facciamo così Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre Quattro Facciamolo crescere Lo cresci? Lo sta crescendo? Beh Una buona quantità di foglie Solo perché non voglio sprecare il bombilla Comunque quello lì Ve lo consiglio Sarà vanilla Però va alla grande Ragazzi Su una mappa del genere Va alla grande Ok abbiamo fatto abbastanza foglie Perché per avere le stringhe Il mob grinder Quello di vanilla Non va troppo bene Oddio Ne abbiamo 48 In realtà Ne abbiamo 48 Quindi Potremmo anche fare lui Ora che ci penso Allora andiamo a vedere Insieme adesso sono questi Ah lui mi chiedete Fa sta roba? Vabbè Ah ovviamente una volta Una volta Prendi i sapling Fai 320 di questi E ottieni La singolare Da paura Regà Da paura Allora facciamo così Perfetto Poi Perfetto Che altro volevi? Gli stick Voilà Voilà Ora tecnicamente I semi Li dovremmo poter ottenere Perché non vedi che l'ho fatto questo? Sei una persona orribile Devo ricraftarlo? No Devo fargli arrivare tutto quanto Scusatemi Quindi Oppela Un little helper Ah Ragazzi io questo qui lo farei Io questo qui lo farei Non vede quello di prima? Ah devo fare insieme Adesso Lol Facciamo il sieves Questo qui Me l'ero segnato Ok Perfetto Scusate Io stavo Guarda qua Sieves PPP E adesso questo qua Forse Non lo so Lo rifacciamo Nel dubbio Giochiamo coppe No Non gli piace Ma chi se ne frega La direzione di string Perché non ti piace? Ah perché vuole che faccio sto giro di pepe Ma non mi serve Va bene Facciamolo C'ha ragione Facciamolo Allora il croc è così Lo facciamo veloce Tagliamo la testa al tor Ok Le mele le abbiamo fatte Mele che il pompermo Sembri mele Apple e rotten Apple E rotten Meno male che sto arrivato Un pochino Yawo 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 E ci da questa mela qui Questa mela qui Insieme alle proteine fibrate Ci da Oh Sinkworm Che è quello che volevo fare qua fuori Non ho idea di quante ve le faccia Però io qui c'è l'olio Ah mi sei a lento Sei a lento No basta veramente però Con la rotten apple Ci faccio altro Direi di no Quindi lui E' felice se prendo questi Perfetto Mazza guardate quanto andiamo veloce Posso cuocerne? Posso cuocerne uno? Certo che il blocco di koala è sprecato però Giusto? Uno soltanto? Yes Oppure posso ottenere 32 string Con cui fare finalmente questa Adesso ma Adesso posso Adesso posso Dici che posso raga No li ho finiti Vabbè Ce li mettiamo qui E tagliamo la testa al tono Allora mettiamo uno Chissà se sono velocizzati No Non sono velocizzati Facciamo così 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 E così E così E così E così Guarda c'è un gulo Questi qui diventano Si trasformano e diventano string Praticamente Mentre di qua Mi prendo questo E me lo mangio Quando ci avrò abbastanza spazio Perfetto Quindi siamo ritornati a tutto quanto Giusto? No Mi servono ancora le string Vabbè senti Io nel dubbio Gioco coppe E intanto me lo faccio Perché il siemes È lento Quindi Il mio pulverizer Il mio pulverizer 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 Eccolo qui C'è anche il martello Ma il martello vuole lo steel Invece questo qui vuole Il tadlium E il wikidium Quindi ci dovremmo avere tutto quanto Taaa E wikidium Eccolo qui Oppela E poi Per gli glass I glass panel Oppela Signori Dovremmo Avere Oh L'autosmartellamento Che per adesso metto qui Giusto? No Mesh È un autosmartellamento È un autosieves È un autosieves Scusate E adesso dovremmo poter andare a vedere Tutti i crafting Oddio Ho premuto un tazzo Si è rotto tutto Ci sono? Ci sono Ci sono Tutti Tutti i craftini Che ci possono essere utili Com'è che facciamo Però non così Ma mi sa Da questo Yes Quindi abbiamo Quello di flint Che diventa di ferro Che non posso fare Che diventa questo Il flint adesso lo posso fare? Il flint è la gravel Ancora non ho la gravel Ma a breve ce l'avrò Quindi string mesh Con la dust Ci dà ste due robe Con il blocco di cellulosa Ci dà tutti i vari semi Da paura Con il blocco di dirt Mamma mia ragazzi Fermi Ci dà i blocchetti Di cobblestone Andesite E tutto quanto Questo è dust Di nuovo Foglie Ci dà questo Non ci interessa Molto molto belle Molto 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 interessante Oh aspettate Che prendo Le stringhine Così possiamo andare avanti Minchia quante Minchia E visto che ci siamo A questo punto Ebbene Rivela dove questo Sono pieno Purtroppo Purtroppo L'upload Si l'upload E' molto 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 zeppa Quindi A little helper Perfetto Allora Io vorrei vedere Se ho Dei cavi Ce li ho Perché avendoli Potrei fare Una Sozzettata No Si No 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 Si 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 Brutto Ma No è brutto Ma è brutto Però è brutto Forte Potremmo fare così Mettiamo dentro E ci mettiamo I blocchi di Era questo Cellulosa Purtroppo Non abbiamo capi Quindi dobbiamo Sempre usare gli hopper Adesso ragazzi Che bello Che non lo dobbiamo Fare a mano Mamma mia L'unico dubbio Che ho Amici E sul La possibilità Di fare Sieme a su Multipli Che è una cosa No questo è il Livi Che è una cosa È una cosa È una cosa Molto molto Interessante Che però Dobbiamo vedere Se esiste Ok Facciamone 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 Due Ok Facciamo così Poi ci mettiamo questo C'è questo E se questa cosa funziona Noi dovremmo poter Brutto Pezzo di fango Schifoso Noi dovremmo poter Essere in grado Di Smarmellare Su Due Fino a nove Funziona 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 Quindi Valgrado Quindi valgrado Questo qui Sia automatico È molto lento Secondo me Ci conviene Ci conviene Il coso 3x3 Quindi Sono 8 Questo lo butto dentro E ne facciamo Un altro po' Minchia Scusa Mi inchiuzzo 11 Vabbè 11 Sono tanti Mi piace che finalmente Intorno al mondo Non devo costruire niente È tutto Spazio Per farmare Vediamo Perfetto Molto più veloce Delle altre serie Facciamo una cosetta Fatta sexy Purtroppo non c'è la k Quella mi sarebbe servita La moda che ti permette Di craftare Bello 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 regalo Bello farmoso Bello grindoso Bello cicciottoso Bam Già se ne sono andati Da paura Da paura Davvero 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 Poi c'è Livi Livi Se non ricordo male Però Vuole Un'altra cosa ancora Una mesh Particolare Giusto Ad o no Dopo Vediamo un po' Le quest Perché non voglio Andare troppo Oltre le quest Quindi questo Mi dà un aiuto Questo è Il Mass Desiccation Drying Upboard Ah Minchia E' un Drying rack Questo Questo secca le cose Interessante Interessante In realtà Ora La chat Mi sta ricordando Che esisteva Anche Una versione Della X-Rilo Dove funzionava Il 5x5 Per verificare Ci basta Metterne Uno qua Se funziona 5x5 Ora Come potete Ruotare Ma che è Oh Odia La musica Che fastidio Ah E' vero Lì Lì Si fermicchia Si fermicchia Oh yes Molto 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 Meglio Dell'X-Rilo Quando parti Solo con un albero E devi Cominciare a Fartene Una Una Soltanto Che sexy Allora Tecnicamente Possiamo Fare Le cose Che si fanno Con le cose Cioè nel senso Possiamo prendere Lo hack Che non è vero Possiamo prendere Possiamo prendere Sì possiamo prendere Mi sto troppo divertendo Ok Posso farne due Non mi ricordo Se la stessa cosa Vale per questo Vediamo Ok Questi Vaggono uguali Però ci vanno Nel compressed Posso metterci La compressed Possiamo farla Vediamo Se funziona Con la stessa cosa No No Però E' pur vero Che uno di questi E' tre di quelli Quindi Non lo so In realtà E' equivalente Rega E' davvero Equivalente Ok Ci abbiamo I nostri amici Ci abbiamo Tutti questi I nostri amici Con questo Ci facciamo La blackstone Con questo Ci facciamo Il basalto Con questo Ci facciamo La diorite Con questo Ci facciamo La granite Con questo Ci facciamo Il guano Con questo Ci facciamo La granite Di nuovo E con questo Ci facciamo Il basalto Non c'è la stone Non c'è la stone Interessante Noi dov'è che siamo Ah La clay La clay E' sabbia Nell'acqua Ma noi abbiamo Un modo Per prendere L'acqua In automatico Ma mai ho fatto La diorite Rega Mi sento Me sento triste Aqueus accumulator Penso proprio Di no Quindi dobbiamo Metterla Ah no Eccola La desite Questa è la desite Questa è la desite Non c'è la stone Però la desite È importante Adesso andiamo A vedere Perché Bene 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 Vedi la gravel Ci serve La gravel Ragazzi Uh Posso far Assicurati La gravel Da paura La Curse The dirt Mi dà La gravel E la Curse The dirt Come Bello 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 Allora Dicevamo 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 Con la create Serve molto copper Con la create Intanto tu Come stai messo Fanno poco schife Fra Se vuol dire Fanno poco schife Eh Mash Andiamo a vedere Gli altri crafting Delle mesh Così poi Non ci sbagliamo Ok Quello Questo La sabbia Che dava Che basso Già persa Il sale Il bombillo E niente Vabbè Comunque Per adesso Sapete che facciamo Facciamo Barrel No Prendiamo dei bucket Poi facciamo Dei barrel Questi qui Vedo dei Così Ma tu sei pazzo Che fai Queste cose Scusa Ma che è Ma che sei Una banshee È il momento Di coccolare Le gate Facciamolo di qua Facciamo così Così Stai bene? Tutto bene? Ah Complimenti Sei una Una lord inglese Barba Eh Sei l'uomo Otoko 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 Aio Arigatou Cosai Ma Cose Ho messo La Ho messo Il coso La crema Per la barba Otoko Aio Ciocchi Ciocchi No Ragazzi Final Space Non pensiamo Non pensiamo Final Space Dai Allora Allora Diamo un bago Sabbia Che abbiamo In grande quantità Giusto? Sì Facciamo così Facciamo così E come potete vedere Non funziona No Mi pare che fosse di lato Il pugno di lato Ok Non era Ok What the fuck Ah era la dust Fermi Oddio la dust Come la ottengo La da Oh guarda la roba No cacao Cacao Meravigliavo La dust Scusatemi Che gli sto facendo Diventa Diventa Acqua salata Col martellone Ma certo A mano Che schifo Amherst 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 Oh my god Ah infatti Strati Scusa Scusa Posso Ma la tocchiamo Tu sa Ma potessi far così Tipo Vediamo Posso? Sento Puzza Di blocco Che svanisce Infatti Mi sa che serve Il compressed Ciccio ciccio Per fare Le cose ciccio cicciose Che ci si cicciottano Nel cicciaggice Vabbè Fa niente Fa niente Fa niente Quindi facciamo Ah però Abbiamo una man miner Buono Eh vabbè Giustamente Scusi Come è buono Lei Istantaneo Istantaneo Signori Clay Ottimo Direi Sapete che con la clay Ci possiamo fare Il bonsai pot E poi Nel bonsai Scusatemi Scusate Troppe 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 emozioni Tutte insieme Ci siamo Oh La gravel Sometime I sound like gravel A good source of fleet Aggregate Mi aggrego Ah Una Una stone crashata Abbiamo trovato Una cosa utile Per far di orite Raga Perfetto Diorite Perfetto Diorite di merda Finalmente qualcuno Ha trovato Una cosa Da farti fare Dopodiché Clay Ottimo direi E prendiamo L'aggregato E l'aggregato No Mi ha fatto seccare Qui dentro Ma come faccio A farlo Aspetta Forse me l'aveva Mi ha dato Mi manca uno di oro Mi manca uno di oro Per fare il coso Per fare l'aggregato Per fare l'aggregato Do sta l'aggregato? Ecco Ah mi sono scordato Di dirvi una cosa Vedete questo? È l'ultimo livello Del singolarity Power generator Che fa con il coal Non con tutti 100 RF su TIC Con l'uranio Ne fa 250.000 Quindi signori Sacrifichiamo Dov'è il mio recycles? È questo? Sì Sacrifichiamo il nostro amico E speriamo Di Ottenere quello che ci serve Dai bello Dai bellissimo Che fortuna Ah quindi è fisso Ok 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 Paura 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 Due di questi Tre di quelli E Per forza di Dark Hawk Ok Per forza di Dark Hawk Acacia Birch Spruce Oddio Oddio gli inventari Dark Hawk Perfetto Devi sacrificare un po' La statana Ok Youtube sono ironico Non stiamo venerando Lo scuro signore Non cresce Ah Non mi dite Non me lo dite Aspetta 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 Lo so Lo so È quattro È quattro No ci abbiamo solo uno Vai dammelo Sbrigate No Ma che fai Per tirire cose Ma tu si pazza Fra Si pazza Nera a dirt Che faceva così Scusate Che era questo Che era La sabbia Oddio Scusate Oggi Dovrebbe Vedermi La cellula Usa Giustamente La cellulosa La cellulosa Va Contro Corrente Magari Una buttassi Per terra Qui servirebbero I compressed I ccc Compressed Dai dammela A dark oak Immediatamente Scusami Per favore Danno dark oak Sono questi L'ha giù visti No Birch Come siete fatti Dark oak Ora cresce Che rigoglioso Ne fa mal il dito Cresce Minchia Arrivederci Perfetto Mi piace Sto back Se ti serve La cosa La fai La prendi facile Capito Non è che ti fa soffrire Pene dell'inferno Per averla Ok Voleva L'RF Boh Empty Empty cosa Aggregate Empty che Calore Dobbiamo leggere Dobbiamo leggere Come funziona Slami 40 secondi Minchia 20 secondi Sono tantissimi Forse vale l'energia Non lo so Vediamo Interrompe Vale 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 l'energia Lo mettiamo qui Lo mettiamo qui E facciamo così Mi sento molto orgoglione Ora 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 Quanto Mi vuole Quanto gravel Vuoi Per farvi la sigolare Di bello De papà 128 Ok E noi ne abbiamo 8 Con la gravel Potremmo velocizzare il nostro impegno No perché poi ottieni questo Poi fai questo Questo è il sorcio Questo è il gatto Con questo Se ci metti la crascia di granito E prendi il copper E il nickel Non è male Ma con la gravel Prendi tutto il resto Snift ragazzi Questo ce lo facciamo Ce lo facciamo noi Questo ce lo facciamo noi Bello di casa Adesso ci riprendiamo Tutto l'inventario E ci facciamo Fabbrichetta Di dust Anzi Facciamo Facciamo una cosa figa Facciamo Lumber compressed Si fa così Ma che è sta l'uomo Così Poi Bellissimo Benissimo ragazzi Benissimo Perfetto Voilà 13 blocchi Che diventa Sendone Giordano Quindi posso mettere Qui dentro Qui già solo 124 Rega Di cosa Quindi facciamo così Per un po' di volte E poi Dobbiamo carasciare Un sacco di quella robetta È una cosa noiosa Lo facciamo insieme Ai ragazzotti live fermi, fermi c'è anche la singolari della clay che costa soltanto 64 quindi già, bam, così debotto senza senso, signori oh my god, è fantastico quindi possiamo andare a prendere il Cthulhu che abbraccia un albero, no Cthulhu, no, non mi ricordo mai scriviamo singolari di qua, tagliamo la testa altra, eccolo qui questo, che come potete vedere non ho un guess di niente, però possiamo farlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, non è vero o quella o quella, o quella, sì, prendo questo grazie, arrivederci, grazie, molto gentile molto gentile, molto gentile faccio un altro po', grazie veramente, dopodiché prendiamo queste qui e le prendiamo dal vanilla le facciamo DOS e dopodiché dov'è? 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 questa sensazione non ce l'ho dobbiamo prendere questo e questa qui così facciamo la crafting table marcia un po' noiosetto il crafting però raga cioè scusatemi se è poco ma adesso abbiamo la clay infinita oh 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 cioè in un attimo quello che io ho fatto storcendomi il dito mi hanno fatto notare che potevo anche mettere il glace al precipitator che metteva la però è davvero lento e noioso e dove rompe tutta la neve non mi va oppure in auto output questa ma non abbiamo il configurato perché erano alla riscattola quindi tutte cose adesso abbiamo la clay ottimo direi possiamo andare a prendere l'aggregate che ho fatto e lo mettiamo a qui perfetto e dopo di che andiamo a prendere questo si esatto andiamo a posizionare quest'altro qui e questi saranno 46 pezzi se non sbaglio sono 46 non lo so forse sì forse no ma che ne so 44 a non posso unire i flussi in questo caso sono molto triste va bene quindi devo i miei cari devo 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 ma posso sa questa posso usare lo posso usare lo posso lasciare non lo posso lasciare dove degli aggregati allora granite diorite o andesite l'andesite è cacca una figura geometrica un po strana però va bene opera no opera ed opera 64 e 28 ce la faremo i veri donno ma c'è da aspettare quindi per forza le cose da aspettare 24 intanto di qua e siamo a 36 su 128 c'è questo ha trovato un modo per sfruttare le brutte stone della della del vanilla incredibile ecco comunque comunque lavoro brutte però allora quindi abbiamo la gravel però se io avessi potuto no sì perché non ti piace perché mi piace ce l'ho l'ho presa c'è qualcosa di sfauge a perché arriva da qui e poi questo vuole che arriva da qui quindi dovrebbe il martello ma io non ho la stone come faccio fare il martello di stone agli va bene anche la black stone fantastico quindi black stone che sono il gruppo musica non è vero non gli piaceva aiuto hammer di stone si cobblestone ma si granite cobblestone andesite cobblestone ma che minchia è scusatemi e non è diorite sono molto diorite cobblestone oh my god è la diorite dentro allo stone cutter io non ce l'ho lo stupendo posso fare la diorite direttamente no e invece ma ok su questa cosa dobbiamo un po parlare e credo del vostro va bene scusate scusate adesso l'ho appena voto volesse stronzo a me lo fa fare perché questi mi danno queste giusto 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 ok e poi mi fa partire con questo questo ce l'abbiamo no ce la ce l'avremo prendo un po di questo un po di questo non ti piace non ti piace perché vuole queste signori signore e signori facciamo così intanto mi libero l'inventario di nuovo oddio sono tutto chiaro come un ovetto gider via via e facciavo era questa si era questo credo fosse questo non lo so non dovrebbe essere lentissimo perché un per 9 tanto tempo fa c'erano degli strumenti meccanici che simulavano il braccio del player e quindi tu appena faccio di questo mette di subito quello strumenti le luci cliccava sopra c'è però non ce l'abbiamo in questo bar dovremmo averci sì 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 e sì giusto bene però lui giustamente vuole ben 16 16 16 perfetto no non è vero ancora no tanto tempo quasi usava l'autorius activator con dentro l'hammer poi si è provato a usare quello dell'extra utilities gli autoclicker gli opzioni c'erano tante poi il creatore della moda ha detto voglio che segui la mia progressione usi gli auto hammer che è comprensibile allora rega visto che questi qui non ci servono più per fare quello che abbiamo fatto prima anche se mi dispiace che ve l'ho fatti vedere due volte ma io sapete come sono sono un uomo che corre verso i propri traguardi infischiando se ne delle regole vivo la mia vita un quarto di cobblestone alla volta perfetto si possono fare sigla regolari di queste ma quindi posso fermare tutto quanto posso fermare con il mio dio posso fare la lava infinita con le singola di col col o mio dio ma è super sexy ragazzi fermi fermi tutti fermato il mondo voglio scendere alla facciamo le gatte sono impazzite facciamo questo la rosa bella è una diretta infinita quindi abbiamo detto facciamo facciamo questo che mi dà la quest poi lui va sul flint ma noi ce l'abbiamo la grave l'infinita o mio dio c'abbiamo la grave l'infinita la c'era di quelle le rispette atomiche ragazzi a vanno smartellate però queste quindi non possiamo mettere subito dentro capito però vabbè dopo faremo gli auto hammer e pass pass alla rima sua abbiamo la grave grave il grave il grave il grave per adesso mi appoggio qui guardi guardi signora lei mi casca sull'uccello detto ciò con la scuola grave non mi serve smartellarla quindi la possiamo mettere direttamente del transito verso giusto e guardate la roba che ci dà oh my god this is fucking incredible quindi io con tutta questa grave ottengo la flint perfetto perfetto senti lo senti lo senti lo senti con la flint scusate prendo questo è questo che un momento dentro casa perché mi parte dove uscire nella fastidio rumore lo metto qui dentro questo qui mi diventa flint mesh ok che adesso con non la grava il questa ma la grava il compressata dovrebbe darmi le gioie di minecraft oddio scusate ed ora posso fare un configurator mi conviene farlo adesso non mi serve più la clay ce lo teniamo da mente però non lo facciamo non sprechiamo niente quindi questo e questo perfetto ragazzi ci abbiamo mamma mia ci abbiamo i lapis ora ci prendiamo 5 minuti di tempo della chat e ci facciamo le singularity e mettiamo tutto in ordine ok allora amici uno fortunatamente dalla chat mi hanno detto che prima avevo cliccato male e possiamo fare il 5 per 5 in realtà possiamo farlo anche più grande però poi si perde l'utilità del centro e 2 ci serve un backpack regà perché stavo impazzito tutti sti popi 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 quindi una cosa comoda del compressed però è che non devi ogni volta sostituire i mesh quindi 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 mettiamo qua dentro questo stiamo facendo il l'apple cylinder vinegar che prevede l'aceto di mele ok con l'aceto di mele che non pensavo fare facessi così tanto e la rotten fresh e il sale che è il blocco di silica non si fa così il blocco di silica si fa così opera e dopo lì dovremmo tenere il sale giusto sale che eccolo qui sale sale che non fa male quindi ottiamo qua ciao minchia oddio tutta la popper festa non la voglio fare scusatemi ma non la faremo davvero non sto scherzando e possiamo creare dove il sale sale la carne la carne meglio tra l'altro potrei mangiarla oh my god posso mangiarla non c'ho fame fantastico carne curata chiamiamola così con la carne curata dentro qui giusto posso ottenere la pelle ho pensato di fare così opera operato sono pieno timer 10 minuti sono benissimo questo lo so molto addentro sì grazie opera ne facciamo un po e con questa cacchio di pelle possiamo fare il pacco finalmente che è questa zombie e poi la devo ripassare ok ok carne condita back pack con quattro precisi grazie grazie ci voleva proprio bam 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 e noi c'è una pure 6 quindi basta crepe l'avarizio quindi legna le stringhe ce l'abbiamo è un pochino land mi suggeriscono di fare un tagliere per le vele perché mele che il pompelmo faccia vedere no vabbè a sto punto finiamo questa cosetta qua ma quanta le vuole non questo non questo no davvero rega così tanta ne vuole a perché mi sono distratto vabbè la diorite ce l'abbiamo sprem e sbrem signori la singola di diorite non mi sarei mai aspettato di dover far fare una roba del genere davvero proprio mai 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 nella vita la black store no il basalto quindi questo mettiamo qui sbramma non dobbiamo più farlo sto sto discorso qui poi questa qui è un'altra landesida ancora vi manca che altro c'ho e niente devo ancora sbandroccare le cose però a sto punto ci facciamo back for your bets fermi un po cos'è sta roba mi sembra un po lontano sexy 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 piggyback piggyback pack ma non c'è no vabbè facciamo questo opera senori possiamo pregadarlo con il ferro vero ancora no però 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 niente male per adesso come si apre con b fantastico quindi abbiamo questo abbiamo la tortola facciamo così ragazzi ho farmato il guano ma vi rendete conto vi rendete conto il guano è vergognoso è vero davvero non riescono comunque mi si apre un sacco di possibilità anche senza conoscere il pack soltanto per quanto riguarda il fatto che c'è di singolarity quindi farmi con le cose poi vanno tutte nelle negli automatismi dell'ex nero e cominciano a produrre tutti i macchinari tutti i tempestati di pietra preziosa è braviglioso guarda braviglioso facciamo così hanno il guano no basta quindi andesite dimmi che ce l'ho tutta ande yes andesite e c'abbiamo la sicura della tesi del gas io in realtà ho ucciso mentre la rough camera un enderman c'è soltanto un ender pearl potrò fare il il magnete no me ne servono due peccato peccato ma tanto signori stiamo andando verso quella direzione allora riprendiamo un attimo perché voglio con un grazie della pelle questi sono le cose per fare cose ci serve il ferro ok andiamo un attimo a riportare le nostre gambe qui perché se è vero che queste ci hanno dato le gioie che la sabbia ci dà il cactus le cani da zucchero e il bambù niente male niente male queste queste rocce belle ingrostate ma l'ho fatto chico ti sei scordato vabbè queste rocce belle costate ci potrebbero dare tutte queste cose ma non vedo il ferro andesi da noi zinco team copper credo che col copper si sblocchi things done era think come thinker capito bellissimo il bambù è interessante il ferro mi dicono che è lontano quindi per adesso non posso fare il ferro però guardate qui che carino ti fa vedere le foto di tutto l'excursus possiamo farmare la lava quindi avremo lava infinita è un mod pack molto molto carino perché quando fai qualcosa sai che è autosufficiente cioè ce l'hai mi sa che come dicono mi dicono che la possiamo fare con la crate probabilmente possiamo macinare la gravel con la gravel prendiamo il nuggets e poi ho visto un metodo per trasformare la nuggets di ferro il negozio di ferro con il wikidium in un iron grid quindi forse a questo quel bellissimo bellissimo sono molto emozionato detto ciò noi adesso finiamo lunedì anzi domani quindi esce sta puntata finiamo di fare le singolari di queste qui ok poi dopo di che molto sexy se io prendo 24 6 8 9 stack posso fare perfetto però la devo crashare giusto non posso fare così no non posso farlo quindi secondo me una cosa a cui puntare subito è l'auto hammer ragazzi l'auto hammer l'auto hammer l'auto hammer che vuole il pulverizer 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 che possiamo fare eccolo qua se presto ci prendiamo il copper però la naga sediare non mi uccide però no vedete possiamo anche farla senza bellissimo bellissimo non ci costringe posso fare tutto con i materiali nuovi plus al posto del ferro bello 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 ovviamente di questi bisogna spavarne perché però io a me a mano non mi caccia fai cose quindi con preste forse fare il compresse da sto punto si prendiamo il compresse buttiamo giù questo questo guano inguardabile che è un po la palla del compresse però se ci pensate no aspetta è un po la palla di quello che devo grattugiare lo so come vedete l'ordine il mio la mia cosa preferita è arrivata la mappa e opla si è rotto e quindi adesso faccio lo faccio qui per forza perché devo ancora dobbiamo rendere tutte le mesh di tipo di tipo gravel quindi per adesso soltanto qui lo posso fare e vediamo un po ragazzi i primi pezzettozzi di ferro cioè di metalli il silver e l'alluminio quindi rea della prossima puntata andremo cioè vi troverete le singolaridi già fatte ok e inizieremo un pochino anzi no senza iniziare e vi faccio trovare pronti già belli crashate tutte queste cose da cicciottare pronte per ci facciamo diviso 4 per due cuocorle e lingotti guys sto perché davvero mi sta piacendo un sacco mi ricorda la sky factory 2 la sky factory 1 senza quella cosa faticosa della adesso devo aspettare che mi è no perché lui subito brava nei file 64 becca di infinito da paura questa sacca piacere spero che piaccia pure a voi lasciate un pollice del super supportare questo canale ci vediamo la prossima e se avete visto questa puntata venite lunedì in live che andiamo a farmare come degli zotti bella per voi ciao